There's no place I'd rather be Bello ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Max, io sono con le Zdroyer 600 di pig Siamo monigrub pertanto da registrare due volte Appena finito? Si lo so, abbiamo appena finito Sei entrato? Si sta dentro la parte mia Vival Va, va, va Scatta, scatta Senza piedi Senza, senza registrare Eh, scatta senza registrare Ciao, Chiedo Senza i piedi Spesso parkurista Vai che corrona Corro sui muri, madonna Guarda, fai un po' di gioco quello perché fai parkour a peste Guarda, ah, ma sono pagato qua io Merda 1, merda 2 Merda 2 Merda 2 Merda 2 Merda 2 Mi fa 29 FPS ma lo voglio fare Cosa? Lo vorrei fare proprio 30 io Quindi vorrei fare 60 per realtà Scusa tutto al massimo, Max Tu ce l'hai tutto in bassa Non è neanche 1080 Ma cosa vinci che è tutto al massimo? No, questo è un schianta Oh, se tu mi hai fatto settare OBS a 720 mi è colpa a merda Ma questo che si spawni di fianco a me Ma lo sto registrando, lo leggerò Ho capito, ma come fai la carenza di bistrall? Scusa C'è C'è una cosa che mi fa Ehm Tu hai 4 giga Io c'ho Nero 2 Il fatto che a me al massimo me ne consuma al 30% questo qua Poi si accendono il titan Guarda, non è mezzo, vieni qua No, è l'auto titan È il titan del gioco No, non esiste il titan del gioco Sì, vedi Vedi che c'ha i fulmini I 9 Ah, eh Fa i fulmini È il titan del gioco Oh, è proprio great il titan però, eh Eh, schianta Oh... È morto? Sono invisibile così Non c'ho fatto in vita invisibile Ma perché sono invisibile? Ma no, è proprio un giocatore sto gioco Ho premuto vuoto e sono in vita invisibile Oh, c'è un giocatore reale Max è rivolto Cosa? Oh, stamattina la parola di merda mi sta andato Ma vaffanculo, c'è chi non mi sparava Che a me stanno fuori in merda Oh, appena finito di recare vado a camminare un attimo le posizioni Ma vado Troppo non posso Ma io ho tutto al massimo questo Eh, ma tu non hai milo tanta Io non hai milo tanta Io non hai milo tanti Però ci sarà scritto Ci sarà scritto milo tanti Ok, sì, ecco Te l'ha scritto Ma tu Infatti da fondo non ce l'hai settato al milo tanta E come faccio a settarlo al milo tanti? Deve avere uno schermo al milo tanti Questo non è quello che tu hai Ah, vabbè, ok Allora niente sarebbe al milo tanti Per ora No, e anche la risoluzione devi scegliere al milo tanti Eh Ma dato che non puoi perché Lo schermo non è neanche 16-9 Ma l'importante è che non si vede sgranato con gli ultimi video Guarda si approccio Guarda Guarda quello del Titan Guarda accado si chiama T9 T.I.E.M. Che sembra T.I.T. T.I.T. Della stazione Ho il Titan Quinto adesso Porco Scappa 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 e porco porco io ho una partita che volevo registrare che non so riuscire a registrare ma sono qui che non la c'è se vai qua se vieni qua muori fiorno della delle ferie per il posto dove morire facciami 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 uccidere ci vai a trattare che io lo chiamo vai oh cazzo cazzo 2 a 1 2 a 1 minchia sono quasi morto mc ci sta distanziando troppo dobbiamo impegnarci di più e cazzo ma chi è che mi dirà come si chiedono a me? nessuno chi è regina su una consigliata? non so neanche come si fa la rigenerazione cazzo che scassa oh mi batte di merda porco non è che non so tanto sbaglio ahhh 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 oh non mi rigenera mi ha detto rigenerazione tra 3 2 1 qua non è vero che bello sti spender inizio inizio ahhh inizio ahhh 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 30 secondi aspetta oh ahhh 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 l'arrivo gmg ci sta distanziando troppo cazzo dobbiamo sbagliarci di più se ci sono io non parlo di nessuno una volta è tenuto però sta già morendo ma io sto scassando non è che mi fa esplodere oh cosa che sono morto oh chi è sto dirzo mo donno mori mi hanno ammazzato è ora di fare tutto serio è ora di fare tutto serio è ora di fare tutto serio muori vai poi sei passato comunque più uccidi persone qui vengono nel bordo max sono sopra di te ok sono salito super quel titan che sei ammazzato vai vai oh no ti pensa eh lo dovevo ammazzare lo stavo ammazzando io bastardo va no sono la persona più felice di questo mondo cazzo dopo che ho visto questa scena cazzo non mi ci fanno soffrire questa prima volta che la vedi nooo è sicilissimo cazzo cazzo adesso la gente mi passa mi passa solo su allarme livello pericolo allarme allarme night 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 è ancora vivo te col titan nole dove hai fatto a morire il giubile eh sai com'è quando 5 persone vengono con tutti te no cazzo sono addosso mi sa sono recuperato siamo ancora in quieto devi spegnarti di più non alleati non alleati non alleati non alleati non alleati nucleodanni 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 stavo ammazzando io vado a che figo nucleodanni sono nucleodanni sono nucleodanni tipo una di apodentaurpower non muore non è morto manco io muore adesso ma dai c'è un nucleodanni attivato io chiamo un titan comunque mi ha fatto una leggerissima scattata quando ho attivato un nucleodanni dai leggero proprio io ancora non ho preso il titan io manco spawn io manco spawn in questi tempi stanno sparati con i missili oltre potenti qua è la zio detto ciao come stai che fanno? non so andiamoci a lavorare un caffè che figo no è da fare questa roba titan e lea do tera non muori sta certa gente qua oh c'è un player guarda guardali 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 che salva un cipiere io lo ho preso tutti vai che morto oh l'ho detto nooo cosa? l'avevo l'ho sperato io zocca io non ho spunto di vita alla mezz'ora oh nucleodanni oh nucleodanni faccio oddio è potentissimo il nucleodanni parca puttana se potete non ciò danni tipo ti fai critici eh? non lo so io mi nemmeno abbiamo un elga adesso non va vai vai adesso si sto dietro che peraltro vai si l'ho ucciso l'ho ucciso vai è morto eh nice l'ho ucciso un titan a mani questo esploso sono oh dove è il posto c'è maxi sta sopra me mi scappare per andare a prenderla punto.com dov'è una vicenda? c'è oh cinque secondi ho tainambron no no mi ha spawnato dov'è la vicenda? ecco l'ingola no lo vado a cercare io è morto vabbè vabbè non posso riuscire io come ho scelto? stanno camperando l'hubuli ecco ti mi chiedo che merdoni guarda che si è anche fatto lo scuro vai arm anti titan prendi un anti titan prendi un anti titan arm anti titan assoletto? eh come cazzo hai sparato? Dio ahhh via no 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 hai preso il passaggio però vedete un po' il mi piace perchè è uno dei giochi che non lagga non lagga no non mi ha mai laggato ti fai ciao secondo tu sei quattro mi ha fatto a me questa mappena è una cagata assurda mi hanno ammazzato il titan dopo mezzo secondo nemmeno in giro neanche un titan io 4 eh me l'hai fatto tutti tu sai perchè guarda molto è un problema di connessione mi ha tirato pure il pugno l'ho preso ho tirato proprio e tu arrivi fiero e poi sposa io arrivo fiero che lo tiro fuori dalla cammina no 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 crashato e vai no è il server di merda no titan è uno dei giochi più belli perchè non l'h appena l'hai detto sono infatti sei crashato ahahah e mi ha fatto crashare anche a me guarda le soluzioni dex lo volete ne su folle guarda io direi che questo video ti taglio ancora il tutto perchè siamo a 10 minuti bella 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 metto 720 io metto 720 vediamo come vado ok ciao 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 ciao